L'avventura di Rima e del suo avversario Les Buzzov O te? Eccolo che il donite con codisco invengerò O chi l'ha fatta? Il tecnico che ha fatto il PTF che poi abbiamo ritirato Ah, ecco perché non funziona Maledetto Piddino Voglio vedere ora, questo non ha fatto chi ha salvato Naps Ah già, volemmena vero Ora non ho mai scampo, questo non ha fatto l'idea torre delle rotatorie Sì, ma da piedi Non è buono, non è buono noi Dopo molte ore Questa me l'ha andata di me Ah già, chissà cosa avrà capito quella roba a letto la mia mente Non è buono, non è buono